Il comitato esecutivo dell'ABI ha approvato all'unanimit la proposta di Carlo Messina e Luigi abete di rinnovare per il prossimo bienio Antonio Patuelli come presidente. Cos Camillo Venezio, vicepresidente ABI, durante una pausa della riunione odierna spiegando che la cosa richiede una minima modifica statutaria necessaria per il rinnovo della presidenza. Ci sarà quindi la possibilità di fare un terzo mandato da presidente se proposto dal comitato esecutivo con maggioranza qualificata del 75%. La proposta di oggi è stata votata all'unanimit per acclamazione. Ha aggiunto Venezio.